Le scuole abruzzesi avranno oltre 40 milioni e mezzo di euro per innovare le proprie classi e implementare i laboratori digitali. Questa è la somma messa a disposizione dal settore istruzione del PNRR e assegnata nell'ambito del piano scuola 4.0, un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studenti più coinvolti e che stanzia a livello nazionale 2,1 miliardi di euro. In particolare per gli istituti abruzzesi sono in arrivo quasi 30 milioni di euro per le cosiddette Next Generation Classrooms e poi poco più di 10 milioni e mezzo di euro per le Next Generation Labs. I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto nazionale sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle regioni del mezzogiorno. Circa le Next Generation Classrooms ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali attraverso nuovi arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili, la rete wireless o cablata. A scegliere come saranno disposti o articolati saranno le scuole. Il dirigente scolastico in collaborazione con l'animatore digitale e il team per l'innovazione potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti. Next Generation Labs si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, robotica, intelligenza artificiale, cyber sicurezza, comunicazione digitale. A questa azione sono destinati circa 124 mila euro ciascuno per i licei e circa 160 mila euro ciascuna per le scuole del secondo ciclo che abbiano almeno un indirizzo attivo di istituto tecnico o professionale. Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola che stiamo realizzando nell'ambito del PNRR, afferma il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il più grande di questo tipo mai realizzato con risorse e tempi certi.